Ehi, un saluto da Dottor Palmas. Qui sotto, se stai cercando amici della tua città, persone che sono già partite, che hanno finito le cure, trovi il bottone per accedere direttamente al mio gruppo consumatori di pazienti, oltre 5.000 pazienti che si sono curati all'estero, che sono venuti in Moldavia. C'è chi è tornato, c'è chi deve partire, c'è chi deve tornare. Entra, fai amicizia e organizzati perché così sarete insieme nel prossimo viaggio di gruppo. Ciao!